La storia dei richiuti Sta per prendere Falcinelli Un attaccante Moscardelli Resta sempre un attaccante corteggiato Ma il Chievo non ha ancora sciolto le riserve Nella lista degli attaccanti del Brescia Al primo posto c'è Antenucci Accanto c'è Moscardelli Ma è molto difficile C'è stato un nuovo sondaggio da parte del Bologna E' una situazione che comunque resta aperta